assistente matematico è una delle funzionalità incluse nell'applicazione gratuita di one note e ti offre un valido aiuto nella risoluzione di espressioni matematiche un valido aiuto quindi per studenti e perché no anche per i genitori che le aiutano a risolvere i compiti a casa quindi apriamo un foglio vuoto di one note scriviamo 2x più 3 uguale ad 1 sottolineiamo l'equazione e clicchiamo il tasto assistente matematico l'equazione viene automaticamente riconosciuta eventualmente possiamo andare a correggere dei caratteri che non ha compreso e infine diciamo a one note che cosa vogliamo fare quindi risolvere per esempio l'equazione per x mostrando quindi eventualmente anche tutti i passaggi che hanno portato one note alla soluzione infine possiamo anche tracciare un grafico dell'equazione che abbiamo disegnato possiamo inoltre andare a personalizzare i nostri appunti sfruttando le nuove colorazioni arcobaleno galassia argento e oro galassia argento e oro